Ebbene si ragazzi, oggi siamo in questo nuovissimo video di Minecraft in cui useremo soltanto il piccone nelle bedwars in compagnia di RedGamer Beh nulla adesso, vi lascio al video Ciao a tutti i venditori abusivi di patate, cipolle, quel che è E benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Oggi ragazzi siamo in questo nuovo video insieme a RedGamer Stai nominando il mio nome in questo esatto momento? Sì Salve signori, sono io, iscrivetevi al canale, non quello di Blackman Startiamo che è meglio, guarda Startiamo è meglio Ok A posto Allora ragazzi, la challenge di oggi Oggi noi dovremmo usare soltanto il piccone nelle bedwars Quindi oggi dovremmo usare La spada no eh No No Proprio dimenticate la via, dimenticata Io senza spada faccio gugu, bagnagliaio, bagnagliaio No no, tu senza spada fai uba No io senza spada faccio la kikaji Perché noi siamo troppo forti Red Non è vero, siamo scarsi come uno schifo Ma che cosa dici? Dico la verità Che casa è ma che cavolo dici? Non è vero Moriamo immediatamente Guardi blu, guardi blu A noi blu non ho fatto un Cristo Un Cristo Perché non mi do Cristo? Ragazzi non vi posso usare? Ah no è vero che il picco, sono tanto il piccone Ma c'è, le, le, possiamo usare gli utensi di vero? No, no, sono il piccone Ok ragazzi siamo pure senza una texture pack Aspetta che me la devo mettere, aiuto A posto una texture pack Allora, eh Tu credo, allora guarda Io ti, io ti devo dire una cosa Siamo un po' ridotti vale Perché Sì Allora io direi di tornare in base A posto Volevo trovarti male Dico Non ci sono riuscito Ho avuto triste Tu veramente Tu veramente Tu veramente Voi che vado con un piccone di I tuoi problemi quali sono? Ah io non lo so Sei tu quello che mi segue Mica io No No Il punto ok Che prima di fare una challenge ok Dove ti vengono in mente sti challenge Ah io che ne so Black vieni qua Black vieni qua Black vieni qua Dove 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 Qua qua Arrivo per l'autorico Non ho blocchi Ah sei però Po' fuori a te red Sei però Po' fuori uno Sei po' fuori E adesso io faccio Alla più cogi Con i loro materiali Lo so distrutto Distrutto te A posto Vedi che più facile Di quella Solo mani Eh È molto Ma fa più Dove un cavolo Non ne faccio di niente Sì invece In una vita È tutto facile Cavolo dici Non è vero Ma che cosa dici Sbirulino Io vado dire A posto Avevo Mi adesso li ammazziamo tantissimo No black 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 Cavolo ti metto in mezzo Ah io che ne so Ti ho rubato il loot Adesso mi butto No 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 Tieni tieni Non ho Sshh La spada La dimentico Come sempre Perché non la userò Questa c'è Non già sarebbe impossibile Eh Lo so Come vuoi distruggerà L'anno con un piccone Dove l'hai comprato il cervello? All'euro spin L'ho ucciso veramente con un piccone Mi sta allaggando i pixel Ed è una bella cosa Non so Tranquillo Infatti ti chiamano i teletubbies 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 Fanno Red che cosa? Do power dove sei? Red Red No 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 Sono morto Sono morto Sono morto Sei morto? Guarda il piccone fa Fa più danno Quello d'oro Lo so Fa 4,5 Buono A posto Si Eh Comunque ho il piccone in oro Quindi non mi posso Lo fa nulla Perché sotto la porta Non entra mai Nessuno in camera Soltanto se vuoi Chiedono se voglio andare a mangiare Oppure che cosa sto facendo di bello Però quando dico Che vado a registrare Nessuno mi disturbo Finché non esco Dalla stanza Easy Dai Lagga pure Che server DM Date Una O Date Una M Date Una M Date Una O Continua La frase Mais Buono Allora adesso Mancano 4 team Dai Secondo me Questa è la Più falli Più facile Come challenge Vero Non è vero Ma che cosa Si va bene Di usare le mani Si è vero Concordo Ragazzi Proprio Si è uscito un video Sul canale di Red Sulle mani Quindi Andate a vedere È bello Oddio Sto laggando a schifo Ai pixel Perché mi fai questo A posto Chi ce l'ha distrutto? Il yellow Non sapevo Non sapevo che il yellow C'entrano da qualcosa C'entrano sempre Ucciso? Aspetta che vado a uccidere A distruggere il letto Vedi se ce l'ho fai Mi è Vedo che sei esploso Sono esploso Va bene ragazzi Questa era Come abbiamo iniziato Questa challenge Ditemi voi Se l'avete vinta Che vuoi Sono distruggendo il tasto Ti crei qualche problema? Si Ti crei qualche problema? Ti crei qualche problema? Ti crei qualche problema? Che sto distruggendo il tasto? Si Dimmelo Si Allora Maffuc